Siamo con la Minja Uo, 21 gol quest'anno, una stagione straordinaria culminata con la vittoria del campionato di eccellenza. L'abbiamo visto da Facebook che si è andato un po' in vacanza, ti sei riposato? Sì, sì, si è riposato abbastanza bene, sono ben contento, tanto non ho avuto abbastanza tempo di riposare durante il campionato. Quando abbiamo finito subito ho detto che abbiamo ancora un micchievole da fare con il Genova, iniziamo l'allenamento la prossima settimana. Ho detto che faccio una settimana di vacanza così in pausa, tanto per me non è finito, da quando è finito il campionato non è che è finito lì, tanto io vorrei solo iniziare la preparazione per il prossimo anno anche, quindi sono andato a fare una settimana di vacanza così, riposare e poi vedo un attimo. Sappiamo che sei un grande professionista, cosa c'hai in riserva per la prossima stagione? Sei già qualcosa, pensi di rimanere al finale o pensi magari di cambiare squadra? Professionista non ho ancora. Beh, ci penso un attimo, tanto è appena finito il campionato e non posso dire che devo decidere adesso che resto a finale o vado via, però sicuramente l'obiettivo è questo, io vorrei andare, vorrei fare salto di categoria, quindi se avviene qualcosa di meglio sicuramente devo andare, però se no altrimenti resto con finale anche. Stiamo guardando in Serie A anche che ci sono dei giocatori veramente che secondo noi e secondo me valgono anche meno di te. Io ti proporrei al Milan al posto di Balotelli? Al Milan al posto di Balotelli non esageriamo, io non esagero le cose, però credo che nel mondo del calcio l'unica differenza è come si chiama la categoria, dicono che Serie A, magari le cifre, le cose, però il calcio è calcio. Se uno crede che vuole concentrare su un obiettivo, a fare le cose bene, io se ho la possibilità di allenare con una squadra, sia Serie A, Serie B o Liga Pro, faccio due mesi di allenamento con la squadra, credo che con la crescita che mi viene dopo posso fare di meglio. Grazie Lannin. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.